Totò, tocca corto per Romagnoli, pallone in profondità, per Chiesa, cerca il cross in mezzo, chiuso, rigore? Rigore? Mi sa che è calcio di rigore per l'Italia, come punizione per... Salve splendori e benvenuti a questo nuovo video dedicato alla vita e alla carriera del calciatore più brutto dell'intera Europa, Salvatore Rosa Spruzzi, che dopo aver conquistato il triplete con la Juventus, quest'oggi tornerà in nazionale per riportare agli azzurri un titolo che manca da 52 anni. Ovviamente sto parlando degli europei e per l'occasione ho deciso di indossare la maglietta che l'Italia ha portato ai mondiali del 2014, quando pesavo parecchi chili in meno e la nazionale si faceva eliminare da Costa Rica e Uruguay. Prima di conquistare il continente però vi voglio ricordare che tutti quanti i giorni, tranne il sabato, mi potete trovare in live sul mio canale Twitch a partire dalle ore 7, e che in particolar modo questa sera, sempre a partire dalle ore 7, sarò in live proprio con PES 2020. Il link l'ho trovato all'interno della descrizione e nel commento pinato in alto insieme a quello del mio shop ufficiale, nel quale sono disponibili un sacco di felpe, maglie, t-shirt e stickers per tutti quanti gli eroi veri. E dopo secoli dalla sua ultima effettiva presenza, Salvatore Rosa Spruzzi torna a vestire l'azzurro on camera. Sì, perché di fatto nell'arco della stagione Salvatore Rosa Spruzzi è stato convocato più volte dalla nazionale, semplicemente ho simulato tutte quante le partite perché erano delle normalissime amichevoli. Tuttavia quest'oggi faremo sul serio. Dopo che avremo simulati i due test amichevoli contro Spagna e Russia, Salvatore Rosa Spruzzi e la nazionale italiana prenderanno finalmente parte a questo maledetto europeo. Sono proprio curioso di scoprire che ci beccheremo nel girone. Mmm, gironcino interessante per l'Italia. Croazia, Serbia e Repubblica Ceca. Al di là della poca varietà di colore nelle bandiere dei nostri avversari, non dovrebbero esserci grosse difficoltà nell'affrontare questo girone. Cominciamo quindi dalla sfida contro la Croazia e guardando i giocatori in campo non ho ben capito quale sia la formazione degli azzurri. È un normalissimo 4-2-3-1 con Rosa Spruzzi punta e il tridente Chiesa Caligiuri Zaniolo a supporto. Perché proprio loro tre quando hai Insigne, El Sharawi e Bernardeschi in panchina? Meno parole, più calcio giocato. E cominciamo quindi questa nostra avventura europea contro la Croazia vicecampione del mondo e in questo torneo il buon Totò ha un piccolo obiettivo personale da raggiungere, che tanto piccolo poi di fatto non è perché riguarda un record che lui stesso ha messo a segno anni e anni prima. Nell'ultimo europeo disputato da Salvatore Rosa Spruzzi egli ha messo a segno 21 gol e 7 assist in 7 partite. Ora non dico di voler eguagliare il numero di assist, ma vorrei provare a superare quello di gol. Perciò dovremmo fare più di 3 gol a partita. In mezzo, signor Caligiuri, Totò di testa! Pallone alto, mamma mia Totò, non possiamo riprendere a sbagliare. Gran palla per Totò dal limite, sul mancino! Il palo! Eh vabbè, oggi va così. 0-0 alla fine del primo tempo tra Italia e Croazia? A meno che non accadano dei miracoli, qua i 21 gol non li raggiungiamo mai. Totò è passato grazie a un rimpallo, a tu per tu con l'estremo difensore della Croazia, Salvatore! Rosa Spruzzi! 1-0 Italia al minuto numero 52, che non ho la più palli di idea di come si è arrivato. Però è stata una bella botta all'incrocio. Buono il cross in mezzo, Totò, arrivaci di testa, Salvatore! Rosa Spruzzi! Oh sì, proprio tu Totò? Tutti zitti? Perché qui comanda il nostro numero 9. E a questo punto la tripletta non è nemmeno così impossibile. Che palla per insignie! Totò con l'esterno destro! 3-0 Italia al 69esimo! La Mao! E tripletta per il nostro Totò che si mette a volare in cima ai cieli d'Europa! Credo che non sia mai successo prima d'ora che Totò segnasse al minuto numero 69. Ma dimmi testi calci di punizione strabuggati che ogni volta entrano in porta! Signor Rakitic non dovrebbe essere contento di ciò. Non sono cadute le cuffie. Eh no però, non facciamoci rimontare adesso! E per fortuna la partita finisce così. 3-2 Italia con tripletta di Salvatore Rosa Spruzzi, che grazie alla sua performance si porta a casa all'ennesimo otto e mezzo della sua carriera. E senza perdere troppo tempo direi di andare immediatamente ad affrontare la seconda partita del girone. Serbia-Italia. Confermati Caligiuri e Zaniolo, novità in signa alle spalle di Rosa Spruzzi. Vediamo di confermare quanto di buono fatto all'esordio. E l'erba di questo campo ha un colore davvero bellissimo. Lo voglio nella mia stanza. Gran palla di Caligiuri per Totò che tuttavia si trova abbastanza defilato. Ci prova lo stesso Rosa Spruzzi! Che a momenti trovava un gol esageratamente bello. 0-0 tra Serbia-Italia alla fine di un soffertissimo primo tempo. La Serbia sta totalmente dominando gli azzurri. Potrei per favore avere un altro miracolo? Ah beh, giustamente, non faccio gol nei primi 70 minuti, mi sostituite. Geniale! Partita che finisce 0-0 tra Serbia e Italia. Che a questo punto lascia i Serbi al comando del girone. Si decide tutto quanto all'ultima. Questa volta Rosa Spruzzi torna a casa con un misero 6,5. Mentre il portiere della Serbia è stato giudicato il milione in campo. Ma adesso è tempo di Repubblica cieca. Confermati in signa Caligiuri e Zaniolo alle spalle di Rosa Spruzzi. Apparentemente questa è la formazione migliore a disposizione di Mancini. Ma vediamo di replicare quanto ha fatto dagli azzurri nel mondiale del 2006. A dire il vero sarebbe opportuno fare qualcosa in più rispetto a quanto fecero gli azzurri del 2006. Perché di fatto il girone si deciderà con la differenza a reti e soli due gol potrebbero non bastare. Situazione di 2 contro 1 per Rosa Spruzzi che si porta al pallone sulla parte sinistra del campo. Rosa Spruzzi è dovuto con Kudela, gli va via in velocità. Ancora lo Spruzzi è dovuto con Bacchic. Lo salta. Rosa Spruzzi in porta! Da salvatore! Rosa Spruzzi! Progressione devastante del nostro numero 9 che è partito praticamente da metà campo e ha bruciato tutta quanta la formazione cieca. Finalmente una sorta di cost to cost come si deve. Non l'avevo mai visto da Totò. Si era sempre fatto fermare in qualche modo stupido e vabbè. Avrebbe potuto fare qualcosa di più figo con la conclusione a rete ma meglio così. Palla di Zaniolo. Totò tu per tu con Bacchic! Il pallonetto per il 2-0 dell'Italia! Salvatore! Rosa Spruzzi! Che trova così una meritatissima doppietta! Ma godiamoci un attimo il passaggio di Zaniolo per il nostro Totò perché è stato davvero spettacolare. Con un tempismo perfetto per evitare il fuorigioco di Totò che poi ha tu per tu con l'estremo difensore cieco. Pallonettino, palla l'incrocio 2-0. Alla fine del primo tempo Repubblica cieca ed Italia sono sul 2-0. Doppietta per Salvatore Rosa Spruzzi che credo abbia messo a segno due bellissimi gol. Continuiamo su questa strada. Totò spara la porta dal limite dell'area, gira il pallone sulla destra per Alessandro Florenzi. Che poi va a cercare in mezzo ancora Totò col destro! Gran risposta di Vachlik. Insigne il solissimo sulla faccia sinistra, cerca di mezzo, Rosa Spruzzi di testa! Altra tripletta per il numero 9! Salvatore! Rosa Spruzzi! Che si mette a cantare in compagnia di Bernardeschi e Zaniolo. Bravissimo Insigne, ottimo pallone, Totò si libera di Kaderabek che trova il sesto gol nella sua competizione. E l'Italia che vince 3-0 sulla Repubblica cieca con tripletta di Rosa Spruzzi? Esultano gli azzurri che a questo punto suppongo si siano qualificati come primi nel girone. Bravo Totò, tutto merito tuo! E infatti non a caso si è preso un bellissimo 8 e mezzo in pagella. E a giudicare dal risultato ottenuto dalla Serbia, sì, siamo passati come primi, probabilmente con la Croazia seconda. E infatti la Croazia ha fatto l'upset decisivo per guadagnarsi la qualificazione. Che botta di chiappe! Ora però voglio andare a vedere come si sono delineati gli ottavi di finale. Russia, Slovacchia, Spagna, Slovenia, Italia, Danimarca, Belgio, Bosnia, Inghilterra, Serbia, Germania, Portogallo, Francia, Svizzera, Croazia, Polonia. Diciamo soltanto che siamo dal lato fortunato del tabellone, va là? A rigor di logica dovremo affrontare Danimarca, Belgio, Spagna e poi arrivare alla finale. Credo sia tutto quanto più che fattibile. E cominceremo proprio dagli ottavi contro la Danimarca, dove alle nostre spalle troveremo un inedito Insigne Chiesa Zaniolo. Il fatto è che ho dei dubbi molto più grandi per quello che riguarda il centrocampo. De Rossi ancora convocato in nazionale e Rugani terzino. Cosa sto vedendo? E cominciamo questo quarto di finale che in realtà è l'ottavo. Sì, è l'ottavo. Non imparerà. Ciao, facciamo gol. Insigne serve Totò dal limite. Carica al destro Rosa Spruzzi. Pallone fuori di un soffio. 0-0 alla fine del primo tempo tra Italia e Danimarca. Diciamo che per il momento le cose non stanno proprio andando per il verso giusto. In realtà non stanno proprio andando per niente. Zaniolo, gran palla in verticale per Rosa Spruzzi che va via Christensen. Palla sul destro, dalla linea di fondo Totò. Schmeichel in calcio d'angolo. Rosa Spruzzi ruba palla alla Danimarca nell'area avversaria. Totò rientra sul destro. Ci prova. L'ess la guanta bene il pallone. 0-0 tra Italia e Danimarca anche alla fine dei 90 minuti. Pertanto si dovrà andare ai supplementari. Per i quali però Rosa Spruzzi viene tolto. Ovviamente. Mi pare logico. Che gol ha fatto in tuffo Spinazzola? Fatemelo riguardare perché non ha senso con nessuna legge fisica. Che gol! Va bene, Gigi Leonardo. Bravo, esce. Abba il pallone per Bernardeschi. 2-0, no fede! Ma per piacere. Non è importante. 1-0 Italia con rete di Spinazzola. E avanziamo quindi ai quarti di finale dove dovremo affrontare presumibilmente il Belgio. Un miserissimo 6 in pagella per Salvatore Rosa Spruzzi. Con Leonardo Spinazzola che si porta a casa la palma di milioni in campo. Direi che tutto quanto è meritatissimo. Vediamo se c'è stata qualche eliminazione clamorosa. E sì perché il Belgio è stato eliminato dalla Bosnia, l'Inghilterra dalla Serbia. Come la Serbia. Ah, giusto che passano anche le migliori terze. Eh, per il resto è tutto normale. Oh mio Dio, Rugani ha la maglia numero 8 in nazionale? Cosa stanno vedendo i miei occhi perché? In ogni caso è giunto il momento di giocare Italia-Bosnia che per l'occasione ha deciso di farci un favore e non schierare nemmeno Dzeko. Torniamo al tridente Chiesa Caligiuri-Zagnolo alle spalle di Rosa Spruzzi. E vediamo di riprenderci dopo la pessima prestazione contro la Danimarca. Fino ad ora il nostro amato Totò è stato piuttosto altalenante. 3 gol, 0 gol, 3 gol, 0 gol. Quindi se tutto va bene, questo giro dovrebbe essere quello dei 3 gol. Che palla di Totò di tacco per Zagnolo! Si avvicina all'arversario a Zagnolo, va a seguire di nuovo a Rosa Spruzzi dal limite col destro! Gran risposta dell'estremo difensore bosniaco. Attenzione, gran pallone per Ibisevic e tu per tu con Donnarumma. Palla sul mancino Bosnia in vantaggio al 33esimo. Ma Ibisevic ancora è vivo e corre. Spinazzola sulla fascia, è liberissimo, può essere dentro un buon cross per Rosa Spruzzi. Di testa ci arriva Salvatore! Rosa Spruzzi! Pareggio immediato degli azzurri con Totò che spicca il volo. Anticipa di testa al centrale della Bosnia e pareggia i conti. Povero Bicacic, mi dispiace. Primo tempo che quindi si conclude così sul risultato di 1-1. Hanno fatto gol nell'unica occasione che hanno avuto a loro disposizione. Nel secondo tempo gli faremo vedere chi comanda. Attenzione, spazi enormi per la Bosnia adesso con Goyac, tu per tu con Donnarumma. Goyac col mancino, pallone sul fondo. E adesso le squadre sono lunghissime, entrambe alla ricerca di un gol che varrebbe le semifinali. Totò, tocca corto per Romagnoli. Pallone in profondità per Chiesa, cerca il cross in mezzo. Chiuso, rigore? Rigore? Mi sa che è calcio di rigore per l'Italia. Come punizione per... E si va di nuovo ai supplementari 1-1 tra Italia e Bosnia. Scenderà il nostro eroe in campo? Sì! Questa volta li facciamo. E dobbiamo risolverli ASAP. Vi prego tutto ma non i rigori. Ho paura di sbagliarlo e far eliminare l'Italia così. Palo! Oh mio Dio! Oh mio Dio, il palo della Bosnia! Calci di rigore? Rosa Spluzzi sarà il primo dal dischetto. In una partita in cui ha avuto pochissime possibilità. Non ho mai tirato un rigore su PES, quindi non ho la più palla di da di come si faccia. Vai Totò, mettimelo! Bravissimo Anche se per un pelo Bene così Bravo Totò Donnarumma lo paravisca Bravo Gigio Vai Gigio Vai Gigio Vai Gigio Vai Gigio Con la parata E ora insigna sui piedi il pallone decisivo Vai Lorenzino Taglie Yes Italia in semifinale Mio Dio che sofferenza Rosa Spruzzi migliora in campo con un bel 7 e mezzo E nonostante i due rigori parati Donnarumma 5 Geniale Le due semifinali saranno Spagna Italia e Germania Francia Proprio 4 delle superpotenze europee ci stanno Oh mio Dio quanto figa è la nuova divisa della Spagna Ok ci sono 8 tonalità diverse di rosso ma è fighissima Ne voglio una anch'io E giusto per cambiare questa volta giocheremo con la divisa bianca Chiesa Caligiuri Zagnolo di nuovo dietro a Rosa Spruzzi Facciamo vedere a questi spagnoli che noi ce l'abbiamo più dura e vogliamo andare in finale E diamo quindi inizio a questa semifinale dell'europeo Dall'altro lato si stanno affrontando Germania e Francia E a prescindere da come questa partita finirà sarà una grande finale Però per favore basta supplementari e basta rigori perché il mio cuore non ne legge più Salvatore Rosa Spruzzi 1-0 Italia al minuto numero 29 E si vola ovunque Ovunque si sia si vola Io qua avrei potuto tranquillamente far tirare Zagnolo Ma no la palla è mia e decido io L'importante è aver deciso bene aver portato in vantaggio l'Italia Chiesa sulla fascia Può mettere dentro il cross Per Rosa Spruzzi al volo col Mancino Bravissimo De Gea a mettere in angolo Primo tempo tra Spagna e Italia che si conclude sull'1-0 Gran gol di Rosa Spruzzi che ha fatto tantissimo l'egoista A me basterebbe mantenere questo risultato, non chiedo nulla di più Non è vero, ha segnato la Spagna con Diego Costa Vi prego, basta Non ce la posso più fare Fede! Appena è entrato Appena è entrato si fa autogol come un idiota Ma perché sto parla di petto ad andare indietro? Ma calciala via subito, ma io non c'ho parole Eravamo in vantaggio fino all'83 Attenzione, opportunità, l'ultima per l'Italia per salvarsi Sbaglia il passaggio in signe Non ce la meritiamo questa eliminazione, mi dispiace 7 e mezzo per Salvatore Rosa Spruzzi che ha giocato un'ottima partita Peccato che il 7 e mezzo sia finito anche a Diego Costa Colui che ha segnato e ha procurato l'autogol Che voto gli hanno dato a Bernardeschi? Ah, non giudicato, dovrebbe essere un 2 E quindi con enorme delusione mi tocca annunciarvi che l'Italia è stata eliminata dall'europeo E Salvatore Rosa Spruzzi ha perso qualche punto in chiave a pallone d'oro Tuttavia noi non molleremo C'è un'altra stagione davanti a noi E Totò farà il sedere gigantesco a chiunque E' un'altra stagione di noi E' un'altra stagione di noi